Quando la pola chega la corazzo non fica na redi, na redi, na redi, olá! Squadra inglesi, adesso prova subito da centrocampo quasi questa conclusione, numero 5 Luca Coppola. Ieri sera si sono chiuse over 35 ai veterani, ma questa sera partiti con le ragazze, adesso abbiamo questo torneo di riparazione tra virgolette per le squadre eliminate nei gironi Cup e League. Se ne va intanto con un bello spunto qui, Idro City, pallone dentro di Nicola Scurdi, viene chiuso in qualche modo dai blu di In The City che sono un po' una mista di diversi giocatori del Breg, c'è anche qualcuno che milita in altre squadre. Adesso Braini col destro, l'ostacolo di Cigliani è regolare, secondo Maresca. Mentre si gioca da tre minuti ormai, adesso il corridoio dentro col destro, provato ancora dall'attivissimo Luca Coppola. Pallone che però si perde sul fondo, niente da fare quindi per i blu. E poi il piatto forte, la rivincita della finalissima Crese Cup Trieste, varrà questa sera come titolo regionale tra Termossoc, SRL e Costa Lunga. Cigliani prova un pallonetto, controlla con relativa tranquillità Manuel Zupin, portiere protagonista di un grande torneo questa edizione estiva. Marturano va a puntare Donato, Marturano chiede l'1-2 a Cigliani, col boritacco che non passa, chiude Braini. Poi pallonetto verso Curdi, alzano la gamba in due, lascia giocare Maresca, c'è Kirsic che raccoglie dalla grande distanza, prova il destro! E si deve impegnare qui Daniele Daris, grande parata, non è finita. C'è Donato, Braini però non può raggiungere il pallone, anticipato da Cigliani. Completa il recupero per Indossiti, il numero 10. Finte su Coppola, che gli sbarra però la strada, poi tocchetto verso Gerbaz. Marturano mette in out, Iannuzzi ci prova da fuori, destro, abbastanza interessante. Il pallone che però non scende abbastanza. E allora, ottavo minuto, si resta sullo 0-0, ormai ci avviciniamo alla metà del primo tempo. Ricordiamo tempi che durano 18 minuti. Pallone lungo intercettato da Labella che parte a 100 all'ora, supera anche Kirsic, cambio di passo nel numero 7, rapidissimo. Si deve però fermarli i ceciliani, stop, destro, palla alta. Buon ritmo comunque in questa finalissima Kraser Play. Portieri per il momento inoperosi ad eccezione di una grande risposta. E allora Daniel Omari, per andare alla battuta dal corner, Kramesteter, c'è spazio ancora per Omari sul fondo, pallone invece per Coppola, con l'esterno. Grande risposta per Zupin. Ancora Marturano morbido verso Kramesteter, superiorità lì sulla fascia. Kramesteter scarica adesso su Omari, tocco dentro, molto teso, chiude Kirsic. Quasi dodicesimo di questo primo tempo, tempi da 18 ricordiamo, 1-0 per la squadra in possesso palla. Gol di Marturano poco prima del decimo. Eccolo qua, ottima la sponda per Cigliani che cerca subito il tiro. Palla che rimbalza davanti a Zupin e non può tenerla, deve accontentarsi tra virgolette di deviare questo tiro velenoso. Altra differenza con Crese Cup e Crese League, rimesse laterali con i piedi e non con le mani. Arriva Gerbaz, punta Coppola, cerca di andarsene, si sposta la palla sul mancino, non c'è il fallo, secondo Maresca. Gerbaz non sembra essere proprio d'accordo. Prova a ripartire allora in The City con questa palla di Kramesteter per Omari, c'è Coppola di là, il pallone per lui. Arriva la chiusura di Braini, Kramesteter finta, destro dal limite, ancora Zupin. Non è finita, c'è anche Cigliani, può provarci pure lui, tiro che però si impenna. Tambureggiante momento di In The City. Che non trova però il gol del 2 a 0, lo sfiora solo un paio di volte. Tredicesimo e trenta secondi. E allora si riparte con il calcio d'angolo per Idro City a caccia del gol del pari. Magari già prima dell'intervallo che ormai incombe però. Romano, palali indietro, Braini, Mancino, rasoterra! Arriva a Curdi, il pareggio di Idro City. Minuto sedici e trenta, stava quasi per sbagliarla da zero metri Curdi che si trova però nel posto giusto, al momento giusto come si suol dire. Un po' pigro l'atteggiamento difensivo dei blu qui, lasciando calciare liberissimo Braini. E tira un po' sbilenco che si trasforma però nell'assist più dorato del mondo e Curdi non si fa certo pregare. Già ripartito il gioco, ottimo ritmo in questa finale Creser Play. Omari si smarca, Kramer Steter punta Kirsic, tocco all'indietro, Marturano si coordina di prima intenzione. Palla di poco alta. E adesso palla manovrata da Donato. Cercava forse Kramer Steter, non trova né lui né la porta avversaria. Donato. Curdi. Sbuca alle spalle di tutti, deve vedersela dalla guardia di due giocatori, scarica molto bene per Donato. Romano la finta, c'è Kirsic. Non la prova di prima, dentro per Vincenzo Romano. Controllo, Vincenzo Romano, siede un giocatore e tocchetto sotto! Esultanza rabbiosa, diciamo, di Vincenzo Romano. Con grandissima freddezza però, ha aperto lui questa azione, si è fatto trovare nello spazio, dimenticato dagli avversari. Ha aspettato che andasse a terra Daris, ha aspettato che andasse a terra anche il difensore che voleva recuperare. E poi con un delizioso scavino, ha messo in rete il gol del sorpasso. E allora Idrositi avanti due a uno adesso. Appena prima dell'intervallo, tant'è che Maresca mette fine ora al primo tempo di questa finalissima Creser Play. Partita giocata a ottimi ritmi, anche belle giocate. Ha aperto il tabellino in The City con Marturano al decimo. Il pareggio di Curdi al sedicesimo. E proprio a pochi secondi dall'intervallo, dal diciottesimo, la prodezza personale di Vincenzo Romano che porta i Celeste Granata avanti a fine primo tempo. Manovrerà il pallone Idrositi che era partita malino. Invece adesso si trova in vantaggio due a uno grazie ai gol di Curdi e Vincenzo Romano. Adesso Donato prova il mancino da fuori provincia quasi. Viene ribattuto. C'è Kramesteder che cerca di andarsene ma non passa. Ancora Donato. Curdi termina a terra sull'anticipo di Labella. Romano chiedeva il vantaggio ma Resca non se l'è sentita. È rimessa allora laterale coi piedi, ricordiamo, qui nella Creser Play. Kramesteder finta su Gerbaz. Tocco verso Mari che punta Braini. Cigliani. Cigliani prova il destro. Pallone che attraversa tutta l'area piccola. Termina fuori. Sono potenzialmente pericolosa questa soluzione adottata dal numero dieci in maglia blu. E allora nuovo pallonetto adesso dal fallo laterale. Curdi controlla molto bene. Poi non riesce a deviare contro tempo. Aveva mancato l'anticipo stavolta Labella. Mentre Marturano nel tentativo di velocizzare le operazioni di ripresa del gioco. Rifila involontariamente una manata a Vincenzo Romano. I due si conoscono da una vita per cui insomma... Buona possibilità gettata però alle ortiche qui da Indesiti. Adesso Curdi con Labella. Duello senza esclusione di colpi. Arriva ancora Curdi. Daris la prende prima dell'avversario. Omari disorienta bene Gerbaz. Poi allarga per Marturano. Si sovrappone Kramesteter. Tocco centrale. Omari ha un po' di spazio. Allarga per Cigliani. Perde forse il momento propizio per la battuta. Scarico su Marturano. Finta sul sinistro. Lo prova. Lo chiude troppo però. Aveva aperto proprio lui tabellino marcatori in questa finalissima replay. Non hanno però fatto i conti i blu con la reazione firmata a Curdi e Vincenzo Romano. Adesso Kramesteter. Cerca ancora spiegazioni Vincenzo Romano che forse non era soddisfatto della distanza del muro difensivo avversario. Coppola dimenticato da tutti. Cerca il destro. Ci mette il corpo Kirsic. Zupin qui non la prende molto bene. Qualcosa del tipo ragazzi non può rimanere così libero di calciare, di prendere la mira. Numero 9 che ha avuto il merito di impattare sull'1-1 raggiungendo gli avversari. Poi ci ha pensato Vincenzo Romano a fare 2-1. Qui Gerbaz in bello stile. Labella però arriva in anticipo. Cerca di infilarsi in mezzo a due. Coppola tiene palla. Smista bene per Omari. Palla sul mancino. Deviazione di Zupin. Ancora vivo il possesso. Ancora Zupin che risponde. Donato respinge corto. C'è Kramesteter. Va a puntare l'avversario. Doppio passo. Kramesteter donato. Ci mette il piede. E allora calcio d'angolo. 12esimo minuto. Mai meno di 6. Più eventuale recupero da giocare in questa ripresa. Sempre 2-1. Idro City contro Inde City. Ora terra Kramesteter si continua. Coppola recuperato. Servendo Labella. Ancora Coppola. Marturano. Adesso prova a infilarsi Cigliani. Il gol di Cigliani. è andato un po' morbido. Kirsic che ha visto sfuggire l'avversario. Ha fatto un po' perno sul corpo del difensore. Poi bravissimo Cigliani con la punta del piede. a trovare lo spazio sul secondo palo. Incolpevole assolutamente. Qui Manuel Zuppin che non poteva farci nulla. E allora con 4 minuti da giocare ancora. Arriva il gol del pareggio. Adesso Miccoli. Prova l'iniziativa personale. Si trascina però la sfera sul fondo. Anzi in out. E qui regola in stile calcio a 5. E la rimessa viene invertita. Omari scambia corto con Cigliani. Vuole Kramesteter. Donato però col fisico l'ostacola. Mette fuori. Subito la battuta verso la deviazione di Omari. Che stava per trovare un gol incredibile. E invece manca di poco. I pali di Zuppin. La bella però a onor del vero sembrava un po' più diretto sul pallone. Mentre Kurdi ha allargato un po' la sagoma per ostacolare l'anticipo dell'avversario. E ora attenzione a questa finta di Kramesteter. Cigliani. Kramesteter che se ne va. Arriva fin sul fondo. Attenzione. Tocco dentro. La palla che passa. E finisce in rete. Incredibile. Trova un pertugio. Uno spazio. Veramente clamoroso qui. Kramesteter. Deviazione anche di Zuppin probabilmente. O di un giocatore di Idrossiti lì sulla linea. Ormai a tempo scaduto. Arriva questo gol. Che potrebbe condizionale d'obbligo. Essere decisivo. Un minuto dice Maresca. E allora ancora 60 secondi scarsi. di speranza per Idrossiti che però sbaglia con Giannuzzi. Romano con grande garra. Kramesteter però lo evita. E allora Labella gira palla adesso in The City. Marturano. Adesso Cigliani controlla irregolarmente questo pallone. Punizione per Idrossiti. E si lancia in avanti alla disperata. Caccia almeno del pareggio. Giannuzzi rovescia lungo verso Kirsic. Comodo però Daris. Subito lungo la Kramesteter ma non c'è più tempo. Sono i ragazzi in completo blu di In The City a chiudere vittoriosamente questa finalissima Crese Replay. Botta e risposta continuo con vantaggio dei blu grazie a Marturano. Pareggio di Idrossiti con Curdi e due minuti dopo Vincenzo Romano per il 2-1 con cui si è andati all'intervallo. Nella ripresa non succede quasi niente per 12 minuti. Poi però nel finale prima Cigliani e poi a tempo scaduto Kramesteter consegnano la vittoria di questa Crese Replay. a In The City contro Idrossiti. Avrebbero meritato comunque entrambe le squadre il successo finale. Vincenzo Romano vuole ancora spiegarsi con Maresca. Segno che un po' di nervosismo di Amaro in bocca chiaramente è rimasto alla formazione in completo celeste. Festeggia In The City questa vittoria nella Crese Replay. Tra pochi minuti avrà luogo la terza delle quattro finali in programma qui sul campo 1. La partita valida per la Crese League tra Excalibur e Pizzeria da Modesto. Prima però il ringraziamento doveroso ai principali sponsor di questa grande manifestazione sportiva che non solo calcio ma anche basket, pallavolo, futbol americano e tanto altro. Ringraziamo quindi Danfer, centro commerciale Torri d'Europa, Pianeta Moto, nuova casa dell'adesivo web.it, centro divisioni Prosecco, poliambulatorio Physiosan e chiaramente Decathlon Muggia, sponsor principale anche del Crese Camp per bambini. Altra novità di questa estate per quanto riguardava almeno le prime due settimane.